Scade il 3 agosto la presentazione delle offerte per la progettazione del consolidamento nel territorio di Brolo delle pareti rocciose del Monte Cipolla che sovrastano la strada statale 113 nel tratto che attraversa la contrada denominata Malpertuso. Ci sono quasi 200 mila euro per la progettazione. La gara è stata pubblicata dall'Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico guidato dal presidente della regione Renato Schifani sotto il coordinamento della struttura commissariale diretta da Maurizio Croce. La carreggiata da mettere in riparo da possibili crolli è lunga poco meno di un chilometro e agli inizi del 2012 venne chiusa al transito per più di un mese a causa della caduta di alcuni massi. I disagi furono notevoli anche perché la strada statale 113 costituisce l'unica via per raggiungere Capodorlando ma anche lo svincolo di collegamento con il comune di Sinagra. Per rendere sicuro il pendigo dopo la rimozione delle porzioni di roccia più stabili sarà necessario collocare reti paramasse e realizzare anche alcune barriere di protezione. Fondamentali anche le opere che consentano di intercettare e smaltire correttamente le acque piovane spesso determinanti nell'alimentare i dissesti.